Ciao ragazzi, sono Cielofizzi, oggi siamo qui con Mike... sì, con Terraria. Vi chiedete perché sono qui fuori, per un semplicissimo motivo. Io sono uscito dalla caverna, e quindi sono uscito dalla caverna, perché mi erano finite le torce. Poi, mentre registravo, poi alla fine mi sono accorto di non registrare! Quindi, praticamente, mentre pensavo di registrare, ma alla fine non registravo, sono avuto il filaggio in fondo, e ho preso un po' di rame che ho trovato. Sono incavolato, tanto il video durava soltanto 3 minuti, serve durato solo 3 minuti, poco. Intanto, allora, sono uscito dalla caverna, con il solito bug, quello lì. Ok, e ora, ci servirà una fornace? Non possiamo farci la fornace. Perché cavolo non possiamo farci la fornace? Abbiamo ancora... guardate quanto è caspita di... Ah, forse perché ci serve delle... Forse per questo, perché se non mi serve del legno, mi stacco gli occhi e mi li metto nel sedere. Perché? Non lo so! Ok, prendiamo il legno, allora. Ok, ah, mi sono diventato questo. Ok, adesso dobbiamo andare bene. Apriti! Sesamo! Apriti? Muoviti? Chi apri? Ok. Ok, adesso. Dimmi che possiamo fare questa roba qui, perché se no, mi cavolo. Non la possiamo fare! Perché? Guardate quanto è caspita di pietra abbiamo! 222! Perché non possiamo? Dai! Che noia! Se siamo affonati non possiamo cuocere il ferro. Allora, perché se ne serve 100? Forse a loro ne serve ancora di più. È così! Grande eroe! Andiamo alla ricerca di pietra. Di notte, sì, pietra. Nel Vietnam! Adesso andiamo a cercare questa pietra. Di notte. Ok, vediamo un pochino. Di cavolo! Stai, pietra! Voi non l'avete mai visto, ma questo è l'occhio malefico! Ah! È pericolosissimo! Oddio! È uno dei miei amici normali, senza contare i boss più forti del gioco. E sono un cretino. Dove stavo andando? Ah! Ok, almeno abbiamo trovato la pietra. Ah, ma ci sono due milioni di zombie che ci sono seguendo. Shuriken! Dove caspita l'ho lanciato? Ah, mi è tornato pure indietro. No! Il mio shuriken! Wow! Più c'è di zombie! Uff! Fiu! Meno male che non sono abbastanza intelligenti per saltare. Ah, adesso mi spiega dove i caspita stanno andando. Non so quale pietra mi serve. Wow! Ok, 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 ok. Ah! Quanti sono! Ok! Ok! Ah! Ma perché l'ho fatto? Eh, il lato positivo è che adesso siamo a casa. Il lato negativo è che non so quante pietra mi serve per fare sta fornace di cacca! Allora, contando che ne ho 220, contando che non so quante... Eccola qui! Quanto ne volevano? Dovevo avere solo le fiaccole! Ma perché? Ma perché? Ok. Quì. Adesso... Cuociamo tutto il ferro. Ok, argento. E tutto il ferro. Oddio! 14! Mischiola! E di questo... Oddio, ma quanto ce ne facciamo? Mi riusciamo a farti pure un po' di armature Mi sa Abbiamo pure delle granate intanto Ma non mi interessano i mattoni Cos'è? Ciotola? Due blocchi di ragilla Che cosa me ne faccio? Può essere posizione Oh, frecce di poco, queste mi servono Oddio, un attimo Ci stanno attaccando la casa Sotto maior Boom Ok Adesso, che abbiamo la fornace Facciamo subitissimo L'incudine Dov'è l'incudine? Eccolo qui Incudine Adesso lo posizioniamo Qua Oddio, ma non ci può fare ormai l'incudine In pace che viene qualcuno a rompere Poi guarda che cosa ti faccio Poi con la spada di ferro Ecco Vediamo un po' Cosa possiamo fare Allora, questo Cos'è? No! No, dai Ma non la volevo Ma dai Cosa caspita è Sta roba? Ma dai Ma non ci posso credere Dopo tutto quel ferro che sono andato a raccogliermi Devo prendere tutte adesso Vabbè, prima ce l'ho lui Anche se è arrivato per prima l'alto Oh, madonna Perché? Adesso devo trovarmi altri due pezzi di ferro Che non è poi così difficile Però Non è che ce n'abbia tutta sta voglia Ehm Eh, facciamo i gambari Ecco qua Adesso abbiamo cinque di difesa Bene, cinque Fantasica Ma cosa me lo faccio della catena io? Non so Vediamo un po' Dov'è? Poi vediamo Ehm Un attimo Prima ti apporti Ecco Vai, catena Non si può succedere niente Ah, magari serve per prendere gli animali Come quel coniglio Che sta arrivando verso di me Hai venuto a vedere come massacrava la cosa Vediamo un po' Non si può succedere un cavolo Boh Vediamo se sapete cosa serve la catena Aia 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 Ok Mi serve altro ferro E poi la vado a cercare Udimo, quanti sono? Ah No, avete ucciso il coniglio Che crudeltà Un attimo Apro tutti Ti apro il cervello E poi te lo faccio ingoiare Per c'è merenda Poi magari si può fare anche un letto In questo gioco Non lo so Sto chiedendo Io adesso vado a cercare Non mi interessa di te Vado a cercare Oh, non c'è la cadente Vado a cercare Vado a cercare del Oh, ciao Chi sei più? Uyat Ciao Vado a cercare del Cosa devo cercare? Qualcosa andrò a cercare Il ferro, ecco Ma quanto è lungo sto ponte? Me lo ricordo più corto Ok, adesso però Devo sapere Ma faccio così Pure no Ah Non ne ho voglia Non ne ho voglia Mi metto a scavare Ho preso un pesce rotto Ah no, è un pesce rosso Ah, ciao Adesso mi metto a scavare verso il basso Come un pazzoito Come ho sempre fatto Esattamente Da qui Noi ci vediamo dopo Ah Inquilino Inquilino Sì Mannaggia Mannaggia gli inquilini C'è un cuore qui Chi me l'ha dato questo cuore? Poi mi chiedo dentro Fiacco Fiacco là Ma lo smetti di andare avanti indietro Basta Dai Ancora Ma lo smetti Dai Ti tiro un pugno Allora ragazzi Ho scoperto che Questi non servono a niente Non hanno nulla della difesa Guardate Senza Cinque di difesa Con Cinque di difesa Tutto quello che Questi qua Sono quelli che Fanno difesa Questi non servono a un cavolo Cavolo ne faccio Ne ho equipaggiato In slot sociale Nel suo parlamento Incrementato Scherzo Parlamento Incrementato Vabbè Vabbè ragazzi Direi che possiamo Che per te Che Oggi possiamo salutare Ah sì Quindi Questa è la terraria Che voglio del ferro E non voglio Sì Cosi qua che non servono a nulla Wop 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 Vediamo un po' Prima di inserciare Voglio vedere un attimo Se posso fare qualcos'altro Un secchio Vuoto Ma un cesso Un cesso Cosa me ne faccio Può essere posizionato Fantastico Allora Nei commenti Ditemi se sapete Qualche metodo Per trovare più minerali Perché Il gioco Praticamente Me ne chiede Me ne chiede Tanti Questa chi la voglio Anche se non c'è Il gioco Me ne chiede tantissimi Ma io non ne trovo Neanche uno Quindi Ditemi voi Se sapete qualche metodo Per trovarli meglio Quindi Ciao ragazzi E al prossimo Episodio Ci si può sedere qui Ma che cosa Senza ha Se non ci si può Neppure sedere Wow Che c'è qui dentro Ah Niente Ficchis Davvero Fantastico Che c'è qui dentro